Dopo nove mesi cos'è cambiato? Sono cambiate tante cose nella gestione dell'emergenza, nel senso che in sostanza non è cambiato niente, nella risposta è comunque immediata, c'è un passaggio in più che non comporta una perdita di tempo, ma una migliore localizzazione dell'intervento. I valdostani continuano a comporre il 118, stiamo lentamente passando al 112. Operativamente per un paio di mesi continueranno a fare i vari numeri dell'emergenza, che sono 112, 113, 115 e 118, ma pian piano entrano nella mentalità del numero unico nell'emergenza europea, 112. Quindi stiamo accogliendo la novità, ci stiamo trasformando alla nuova realtà della centrale unica del soccorso? Assolutamente sì, ci stiamo anche adeguando agli standard europei, nel senso che francesi, tedeschi, spagnoli operano già in ottica 112 proprio come utenti, anche noi valdostani, un po' come gli italiani, ci stiamo adeguando. A quasi un anno dal passaggio al numero unico del 112, quali sono state le difficoltà maggiori per passare il messaggio alla popolazione di comporre un nuovo numero per ogni emergenza? Beh, ovviamente rompere un'abitudine. È vero che in previsione di eventuali difficoltà, tutti i numeri precedenti sono rimasti attivi, quindi componendo uno o qualsiasi dei numeri d'emergenza, a partire dal 112 fino al 118, comunque è l'operatore 112 che risponde alla chiamata. I risultati sono positivi nell'arco di un tempo molto breve, dai dati risulta che oltre il 50% della popolazione valdostana ha già assimilato l'informazione, quindi ci attendiamo che nel medio periodo questo messaggio venga recepito da tutti. In caso di forte emergenza non si corre il rischio di un intasamento della linea telefonica o di telefonate in attesa? No, proprio perché l'112, essendo un servizio nazionale, prevede che nel momento in cui una delle postazioni dell'112 sia intasata, quindi abbia di fatto delle chiamate in coda, queste vengono automaticamente dirottate ad altre centrali uniche di risposta, cura sul territorio, quindi in realtà possiamo contare su una rete con l'112 che invece prima non esisteva, chiamando direttamente l'ente di soccorso e di sicurezza. Quindi in caso di forte affollamento della linea telefonica potrebbe risponderci anche un operatore della centrale unica piemontese del 112? Sì, esattamente come i nostri operatori dell'112 rispondono per le chiamate d'emergenza in Piemonte. Un'ultima domanda, siamo attorno a un 50% di utenze, diciamo, ha detto prima, di cittadini che chiamano direttamente l'112. Qual è il vostro obiettivo per quest'anno in corso? Il nostro obiettivo è anche la nostra responsabilità, è quella di implementare l'informazione e giornate come queste, che insomma sono state, la giornata di oggi è stata voluta dalla Presidenza della Regione nell'ottica proprio di continuare a fare informazione rispetto alle funzioni dell'112 in modo che i cittadini siano maggiormente informati rispetto a queste procedure. Grazie. Grazie.